Freddano sicuro? No, fanno crema nelle strisce Vado a cercare un modo di come poter parlare a un personaggio Allora mi racconti di che cosa stiamo facendo? Un'intervista Il lavoro, di che cosa si fa? Una parata Una parata Di animali Per esempio, questi sono i mammut che giocano ai pirati Questo è Tommy, il più piccolo E questo è suo fratello maggiore, John E come lo mettiamo sto... Vediamo un po' sul libro come lo mettiamo Fammi vedere Fagli il libro, scusi Quella è una pagina che stiamo facendo Allora, passa di qui Che cosa è quello? Il tunnel da dove entreranno Dove sono passati A proposito prima Entrano dalle chiappe della tigre Vediamo E deve essere il corpo della tigre Non ha dato grandi risultati Quindi da qui entrano, basta non trovare la pancia della tigre Poi passano per un tunnel Aspetta è Fammelo vedere così ti riprendo da qui Ecco, da qui I mammut escono E ci sono dei loro fan Quanti animali mettiamo in questa trattata? Quattro Tutti i libri, quando c'è ne sono tanti Tanti libri E da qui Il tappeto si interrompe Dove ci sono i loro fan Ah, e poi Entrerà il coniglio Marajà Passato anche lui dal tunnel E poi passerà un animale da cui non ho ancora sentito la storia Il maiale divo Con l'helming E poi Il gabbiano con gli stivali Boing, 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 boing Questa è la storia Questa è la sua